In la vita quando noi abbiamo subito qualche delusione d'amore, guardi, magari siamo stati mali, ci è passato pure la voglia di vivere, ci ha mettato l'indirietta e siamo diventato l'essere più debole che ho affacciato a terra, ma poi pensare che è buono, state massenti, i pochi anni fa, hanno già subito la delusione d'amore perché sono stata lasciata, ma già distruggere una vita, quando poi, che la persona che mi ha deluso, se non sta fanno bene con una persona, se non è strafotto in me, quindi guardi, la vita continua, è brutta delusione, nessuno lo mette in dubbio, è bruttissimo, però superammo, perché poi che succede? Che tutti noi vengono al pettine, magari quella persona che ci ha deluso e ci ha abbandonato per una persona, un giorno si rende conto che quella persona che tiene vicino non è la persona che cercava e va trovando una volta a noi e a quel punto guardi, la maschbattere porta in faccia, ecco perché dica, state assenti a sabiucce vostre, c'è il tacente, su Bolle Sabù.